Ben ritrovati e ben ritrovati, prima di tutto iscrivete al mio canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like al termine di questo contenuto. Fortunatamente tanti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti al canale, dunque un piccolo sforzo ne va della sostenibilità appunto proprio di questo canale. Tanta carne al fuoco, davvero tanta, ma tanta carne al fuoco. E' chiaro che poi la nostra concentrazione dovrebbe andare automaticamente alla sfida di sabato con il Cagliari, pre terza sosta sagionale, una partita fondamentale da vincere per continuare a dare continuità considerando quattro successi di fila, considerando il fatto che la Juventus non prenda gol da sei partite consecutive, questi sono dati considerevoli. Però non bisogna nemmeno sottovalutare minimamente l'avversario che proviene da tre successi consecutivi considerando anche la Coppa Italia, quindi occhi ben aperti. Ma è il mercato a tenere banco? È vero, siamo solamente all'otto di novembre, quindi è quasi prematuro soffermarsi su questa tematica, ma se Cristiano Giunto e Giovanni Manna vanno a Londra, beh, semplicemente si consolida la tesi che ho condiviso con voi nella scorsa settimana, ovvero il football director e il direttore sportivo della Juventus sono decisamente sul pezzo. Noi quando parliamo di Londra dobbiamo anche considerare che nella capitale inglese vengano svolti tanti incontri, vale un po' quando parliamo dei vari summit che vanno in scena a Milano, che è il cuore pulsante del nostro mercato. Londra lo è non solamente dell'Inghilterra, bensì su scala direi proprio internazionale. Ci sono squadre non inglesi che hanno però uffici anche a Londra. Io ricordo che, per esempio, Fabio Paratici c'era stata un'estate che l'aveva trascorsa tutta lì, praticamente, dove incontrava intermediari, agenti. Quindi non deve sorprendere che, giunto le Manna, sì, ok, siamo andati a vedere Tottenham-Celsea e quindi nasce, no, praticamente spontaneo l'accostamento con Hoiberg, che se non sbaglio è entrato all'inizio di presa in questa sfida persa dagli Spurs, un po' una comba rocambolesca, considerando diverse espulsioni. Però andare a Londra significa incontrare magari anche gli agenti di Phillips, che non milita lì perché gioca nel Manchester City, o meglio, non gioca nel Manchester City, ed è un calciatore che al momento è stato proposto a tantissime società, tra cui la Juventus. Qualcuno dice che anche il Newcastle sia decisamente in prima linea per cercare di prendere questo ragazzo. Quindi io non mi soffermerei troppo sui nomi Hoiberg, Phillips, bensì sull'azione, perché se giunto le Manna vanno a Londra è perché hanno una serie di appuntamenti e poi possono sfruttare anche la possibilità che si giochi, come è successo in casa del Tottenham, e farsi un'idea in più, perché vedere il calciatore con i propri occhi in presa diretta fa sempre la differenza. Poi noi dobbiamo anche considerare che la Juventus è tantissimi scout nel mondo, quindi quando i calciatori non vengono visti da vicino, da Giuntoli e Manna, ci pensano questi osservatori a guardare le partite, a fare i loro report e poi sottoporli allo stato maggiore. Però la presenza sicuramente di questo blitz in terra britannica di Giuntoli e Manna va semplicemente a velocizzare il fronte, ovvero a sviluppare un tema che già conosciamo, perché la Juventus a gennaio spalancherà le porte della Continassa, quantomeno un innesto, sicuramente un centrocampista. Io continuo a battere su questo tasto, ovvero che la Juventus si accaccia di un profilo che possa aiutare a fare più gol, più assist, quindi una mezzala di inserimento. Se noi analizziamo le caratteristiche di Hoiberg, che comunque la passata stagione ha segnato tanto, dello stesso Philips, sono calciatori validissimi, sicuramente, ma che al momento non vanno nella direzione architettata, pianificata, progettata dalla Juventus. Poi è normale che possano cambiare anche i gusti in base all'opportunità, perché noi non dobbiamo aspettarci fuochi d'artificio nel mercato di gennaio, ci dobbiamo aspettare però una Juventus pronta a cogliere un'opportunità con l'intenzione di non portare alla corte di Max Allegri un riempitivo, bensì un calciatore pronto e che fin da subito possa dare un contributo utile alla causa. Per cui il doppio ragionamento, se sulle caratteristiche abbiamo già capito in questo momento cosa stia portando avanti la Juventus, sebbene, lo ripetisco, siamo all'8 novembre, quindi puoi avere un'idea oggi e cambiarla domani, magari. E l'altro interrogativo è esperienza, quindi prendere un calciatore subito pronto o magari andare di prospettiva, fermo restando che la Juve i calciatori del domani, che però fanno già parte, uno, Miretti, dell'attualità, già li ha. Sesso Fagioli, è un calciatore che qua dopo ci arriviamo, sta scontando questa squalifica perché deve assumersi le conseguenze e la responsabilità di ciò che ha fatto, ma la prossima stagione il giocatore farà totalmente parte del progetto tecnico. Quindi è importante vedere questi movimenti della Juventus, anche fuori dall'Italia, ma sui nomi secondo me dobbiamo ancora fare maggiore chiarezza. Locatelli e Fagioli entro la fine di questa settimana rinnoveranno ufficialmente fino al 30 giugno 2028. Nessun dubbio, abbiamo già capito che gli accordi fossero praticamente fatti, possiamo togliere questo praticamente perché gli accordi sono fatti. Manuel Locatelli e Niccolò Fagioli in questa settimana verranno ufficializzati entrambi fino al 30 giugno 2028. Già abbiamo fatto il punto su Locatelli, un giocatore che sta crescendo molto tra campo e direi anche extracampo. Molto maturo, fondamentale nello spogliatoio mi dicono che stia diventando un leader, questo lo dirà solamente il tempo, ma sicuramente le sue performance stanno salendo di tono in base alle richieste dell'allenatore. E devo dire che Manuel mi è piaciuto tantissimo nell'ultima partita. Credo che a Firenze, in termini di sacrificio, abbia proposto un contributo di livello altissimo e inizia a non fare notizia perché sta giocando davvero con un ottimo rendimento e sta facendo molto bene la protezione del pacchetto arretrato. Per quanto riguarda Fagioli è un messaggio molto chiaro quello che la Juventus lancia, ovvero massima vicinanza e protezione al ragazzo, che come vi ho detto prima ha sbagliato e sta pagando per quello che ha fatto, però al tempo stesso c'è questo accordo fino al 30 giugno 2028 che dovrà portare nella prossima stagione a fornire subito il suo contributo con un percorso terapetico alle spalle importante che poi punti a consolidare la rinascita a livello umano di questo ragazzo perché le sue doti tecniche credo che nessuno possa dire alcun che. Capitolo Douglas Costa. Ieri Fabrizio Romano ha riportato un aggiornamento molto importante su SOS, ha spiegato attraverso poi l'intervista esclusiva che ha fatto lo stesso Douglas con Fabrizio che aveva detto Douglas di voler provare a tornare alla Juventus in quanto è fortemente legato a questo ambiente. Però i segnali vanno nella direzione opposta, perché come spiegava lo stesso Fabrizio la Juve evidentemente ha in mente altro, ha in mente altro sebbene poi Douglas possa eventualmente decidere di venire a giocare quasi al minimo federale, qualcuno parlava di 100.000 euro fino al termine della stagione, però io credo che qua valga un po' il discorso che abbiamo fatto anche per Federico Bernardeschi e per altri giocatori, il passato è passato. Io credo che Douglas alla sua prima stagione in Italia sia stato fondamentale per quello scudetto, poi è un giocatore che purtroppo non l'abbiamo più visto in campo, tanti infortuni, tanta infermeria, un giocatore che poi ricordiamo anche come si è andato via, con l'incentivo all'eso, insomma, mi sembra il passato. E in questa stagione, con tutti i suoi limiti, comunque la Juve ha voltato pagina, sta voltando pagina, la sta cambiando, sta cercando di rinfrescarla e tornare, sì, magari a cogliere un'opportunità, perché Douglas Costa, sebbene 15-20 minuti a partita in Serie A sarebbe un lusso spropositato, ma dietro quel sé c'è un mondo. Anche a Los Angeles, se andate a guardare le statistiche, sono state da tantissime partite, è un giocatore che poi ha praticamente 34 anni, no, 33 anni, quindi è un classe 90, sì, quindi in meglio lo ha dato e anche quando era il top, comunque, a livello di infortuni, soprattutto la Juventus, specialmente la Juventus, ha rappresentato un grosso problema. Quindi diciamo che al momento la Juve sembra fortemente intenzionata a declinare gentilmente questa autocandidatura di Dughi. Dai, fatemi sapere il vostro punto di vista su tutto, su questo blitz di Giuntuleman a Londra, su questa Juventus che si smarca dall'autoinvito di Douglas Costa, e sui rinnovi, sull'ufficialità dei rinnovi di Manolo Catelli e Niccolò Fagioli, che, stando alle mie fonti, entrambi i rinnovi verranno ufficializzati entro la fine della settimana.